voi tutti che ci avete la inestimabile ventura di credere eppure voi tormentati dal dubbio non abbiate paura di accogliere cristo e di accettare la sua potestà non abbiate paura aprite anzi spalancate le porte a cristo alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati i sistemi economici come quelli politici non abbiate paura vi prego vi imploro con umiltà e con fiducia permettete a cristo di parlare all'uomo solo lui a parole di vita sì di vita eterna tu sei via sei verità tu sei la nostra dignità camminando insieme a te vivremo in te per sempre Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo E' hermosa, camminaremo, traendo tua confezione, testimonios de carità, hijas de Dios en el mondo. E' hermosa, camminaremo, traendo tua confezione, testimonios de carità, hijas de Dios.